Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video Ormai siamo completamente immersi nel mood natalizio, manca pochissimo al Natale e anche su questo canale gli ultimi due video sono stati proprio a tema Natale e festività Quindi direi visto che manca per l'appunto poco al Natale ma anche alla fine dell'anno è arrivato il momento di fare un po' un recap delle mie letture del 2022 Prima di iniziare come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare la campanella in modo da ricevere una notifica ogni volta che uscirà un mio nuovo video e se non lo fate già seguitemi anche su Instagram, io sono Martina Tazza Cominciamo! Ho segnato tutte le letture del 2022 in questo quaderno Quindi ho il numero esatto di libri letti e ho potuto anche ricontrollare per potervi parlare dei libri più belli che ho letto Quest'anno sono riuscita a leggere 30 libri La cosa mi ha sorpreso, a parte per il numero, perché sicuramente non sono pochi i 30 libri ma anche per il fatto che è un numero tondo, che è bellissimo, non l'ho fatto apposta Ho considerato anche il libro che sto leggendo in questo momento e che sicuramente terminerò prima della fine dell'anno, chiaramente Come ho detto, per me 30 libri sono davvero tanti quindi non credo che riuscirò a eguagliare il numero di libri letti anche nel 2023 semplicemente perché io ho iniziato l'anno, cioè i primi mesi del 2022 ho usufruito di un'offerta su Audible che mi ha permesso di ascoltare diversi libri Chiaramente questo mi permetteva di leggere un libro quando ero a casa invece di ascoltare un altro libro mentre ero in viaggio e chiaramente questo mi ha aiutata però adesso quell'offerta non c'è più da tanto e non sempre quindi riesco a leggere 4 libri al mese come invece ho fatto per i primi mesi dell'anno però non importa perché in realtà per me la lettura è assolutamente un hobby e un piacere ma non è l'unico hobby e l'unico piacere che ho e quindi durante le mie giornate sì, devo trovare il tempo per la lettura ma anche per scrivere, per fare teatro, per fare yoga, per lavorare per stare con la mia bambina, con la mia famiglia, per guardare film e serie tv quindi insomma non voglio assolutamente sentirmi in colpa se il prossimo anno leggerò un po' meno libri di quest'anno e lo stesso dovreste fare voi perché per l'appunto la lettura è qualcosa che deve essere proprio piacevole e vissuto in totale libertà fatto sta comunque che quest'anno è andata così quindi sono molto contenta del risultato e adesso vi do qualche dettaglio in più quindi per essere precisi ho letto 30 libri di cui 12 romanzi 2 classici 7 thriller un fantasy cosa molto rara per me quindi comunque sono orgogliosa di averlo fatto 2 biografie e 6 libri di crescita personale detto questo chiaramente passiamo alla parte che vi interessa di più ovvero quali sono stati i libri più belli che ho letto quest'anno? bene iniziamo il primo che vi nomino è Il rumore dei tuoi passi di Valentina Durbano questo libro l'ho ascoltato su Audible quindi vedrete qui la copertina ed è stato veramente meraviglioso come ogni libro di Valentina Durbano anche in questo caso la storia è ambientata a Roma i protagonisti sono due giovani ragazzi che crescono nascono e crescono in un quartiere veramente povero e disastrato di Roma ma che hanno due destini diversi in realtà due vite diverse che corrono parallele solo fino ad un certo punto e questo è dovuto al fatto che nonostante abbiano più o meno la stessa età o la stessa età non ricordo e siano nati nello stesso posto provengono da due famiglie diverse la storia è struggente è toccante è coinvolgente è meravigliosa io vi dico che fino ad ora non ho letto nessun libro di Valentina Durbano che mi abbia delusa quindi se volete leggere qualcosa di bello questo ve lo consiglio ma qualsiasi titolo sceglierete sono sicura che andrete veramente alla grande ecco andrete sul sicuro questo libro in particolare devo dire che mi ha spezzato il cuore però in senso positivo nel senso che dato che stiamo parlando di un libro quando succede questo significa che è proprio bello intenso ed è stato un ottimo modo di iniziare l'anno perché appunto è stato il primo libro che ho letto e che ho finito il secondo libro che vi nomino anche questo l'ho letto proprio all'inizio dell'anno capirete perché infatti sto parlando del maialino di Natale di J.K. Rowling una lettura meravigliosa che ho fatto insieme agli amici del club del libro e anche questa davvero consigliata torniamo alla nostra vecchia cara amica J.K. Rowling che scrive libri per ragazzi ma che anche gli adulti amano il che è una cosa fantastica torniamo in un mondo inventato da J.K. Rowling che in questo caso non è Hogwarts ma è il mondo dove finiscono tutti gli oggetti e non solo che vengono smarviti che vengono perduti è un viaggio affascinante insieme al protagonista del libro che si chiama adesso non ricordo più Jack insieme a questo maialino di Natale è un'avventura fantastica oltretutto un libro che è accompagnato e vi faccio vedere anche da delle bellissime illustrazioni stupende quindi insomma non vi dico molto di più perché secondo me è un'avventura che va vissuta e ve lo dico adesso perché nel periodo natalizio proprio questa storia ci sta ci sta veramente quindi sono contentissima di averlo letto e di averlo nella mia libreria il terzo libro del 2022 che non dimenticherò mai è Lonesome Dove di Larry McCartney un bel mattonazzo ma veramente veramente bellissimo qui proprio veniamo fiondati in un piccolo paesino tra il Texas e il Messico con dei personaggi degli ex ranger che adesso si dedicano insomma al commercio del bestiame e che decidono dopo l'arrivo di una loro vecchia conoscenza di radunare tanto bestiame e spostarsi fare un lungo viaggio nel Montana quindi è la storia non solo di questi personaggi nel paesino dove vivono dopo la loro carriera da ranger ma è proprio il racconto di questo lungo viaggio se avete voglia di fiondarvi in un'avventura da cowboy sicuramente questo è il libro che fa per voi io vi giuro sono rimasta incantata non solo dai personaggi che sono delineati in una maniera veramente affascinata affascinante cioè li sentiamo sono dei personaggi ruvidi veri tanti e nonostante questo completamente distinguibili l'uno dall'altro e memorizzabili alla perfezione perché è una storia che prende talmente tanto che è impossibile perdersi ma anche le descrizioni dei paesaggi delle situazioni è qualcosa di fenomenale cioè voi sentite la polvere in gola durante le giornate più calde al confine con il Messico o la pioggia scrosciante che arriva durante il loro viaggio verso il Montana o i pericoli che devono affrontare quando ad esempio devono guadare un fiume e c'è il pericolo di venire attaccati o di venire uccisi da qualche animale insomma davvero un libro bellissimo un'avventura stupenda che sono felice di aver fatto durante quest'anno cambiamo genere ma anche questo libro ha svoltato il mio 2022 e sto parlando di Green Lights l'arte di correre in discesa di Matthew McConaughey sì questo questo buonazzo comunque sono felicissima di aver letto questo libro perché è veramente una meraviglia è un'autobiografia l'autore racconta la sua vita dal posto dove è nata la sua famiglia fino ai giorni nostri quindi la sua carriera e il suo adesso essere una star del cinema è bello perché lui non solo racconta semplicemente quello che gli è successo ma racconta come lui affronta la propria vita come lui affronta le prove che la vita gli ha messo davanti ed è questo in realtà ad essere il vero fulcro del libro è quasi un libro di crescita personale perché attraverso la sua esperienza lui ci insegna come prendere la vita di petto e come riuscire a raggiungere tutto quello che desideriamo nonostante gli sforzi nonostante le difficoltà nonostante le paure perché lui è un uomo come tutti noi è partito da zero ed è diventato quello che è adesso grazie alla sua tenacia lui ha sempre creduto molto in se stesso quindi non è un uomo che al quale insomma tutto è arrivato in maniera gratuita e facilmente ha lottato però è anche un uomo che ha saputo ascoltare i segnali che la vita gli ha mandato e quindi a cambiare direzione quando era necessario farlo secondo me è un libro che merita di essere letto è un libro anche bello di qualità ecco diciamo perché è pieno di ora magari vi cerco una pagina dove c'è qualcosa ecco è pieno anche di disegni appunti addirittura ci sono proprio fotocopie di cose che ha scritto lui fotografie ecco qua vi faccio vedere anche qualcos'altro quindi insomma è un libro anche piuttosto interattivo davvero davvero molto bello uno di quelli che fa la sua figura in libreria ma anche nei nostri cuori perché è stata una lettura fantastica passiamo adesso a un classico come sapete non sono una grande lettrice di classici ma questo è veramente stato bellissimo e sto parlando del giardino segreto probabilmente molti di voi l'hanno già letto io non l'avevo fatto ancora e quindi quest'anno è stato il suo anno sono molto felice di averlo fatto perché è un libro che scalda il cuore ecco io vi consiglio questo libro se state affrontando un periodo dove magari non vi sentite tanto a vostro agio dove magari avete bisogno avreste bisogno di evadere o di qualcosa di positivo magari un periodo dove vedete un po' tutto grigio oppure se magari vivete in un luogo dove non è possibile entrare immediatamente in contatto con la natura quando uno ne ha bisogno perché magari vivete in città oppure è inverno quindi non è possibile uscire sempre a fare una passeggiata ecco in ogni momento così un pochino più giù della vostra giornata della vostra vita ecco questo libro è veramente la medicina per tornare a sorridere perché è uno di quei libri che fanno stare bene a parte le descrizioni della natura che secondo me fanno sempre stare bene anche la storia in sé per sé del libro è davvero una coccola è una di quelle storie che scaldano il cuore che è bello leggere nel periodo di Natale ma in realtà in qualsiasi periodo dell'anno perché donano serenità quindi insomma un classico che mi ha sorpresa e che porto nel cuore che come vedete è arrivato ad essere tra i best of 2022 passiamo adesso ad un altro romanzo che mi ha incantata avanti parla di Lydia Ravera di questa autrice non avevo letto mai nient'altro è stato il suo primo libro è stata una grande scoperta molti di voi già la conoscono io invece purtroppo non la conoscevo a parte la storia che vede come protagonista una signora anziana cosa che non accade spesso ed è molto bello vedere le vicende dal punto di vista di una signora più avanti con l'età in realtà quello che incanta davvero di questo romanzo è la scrittura dell'autrice che è davvero spettacolare una scrittura che sembra quasi un diario che quindi ci porta dentro la vita e i pensieri e le emozioni della protagonista con una dolcezza indescrivibile e oltretutto entrare nella mente di una donna del genere è stato davvero bello una donna che un tempo era stata forte con degli ideali coraggiosa ribelle e che nell'invecchiare è diventata sola insicura che vive insomma un po' una vita dietro le quinte quindi secondo me l'analisi anche psicologica di questo personaggio è estremamente interessante in ogni caso non credo che esistano persone che non amano lo stile di scrittura di Lydia Ravera quindi se non la conoscete dategli una possibilità perché è davvero incantevole un altro libro bellissimo che ho letto nel 2022 vi dirò forse il più bello dell'anno è Leoni di Sicilia finalmente ho letto questo libro che in realtà ha spopolato ovunque ma che io non avevo ancora mai letto meraviglioso meraviglioso la storia della famiglia Florio da quando è arrivata in Sicilia sarebbe fino ai giorni nostri ma in realtà quello è soltanto il primo libro quindi racconta circa un secolo di storia di questa famiglia ne ho parlato in un video delle letture quindi non mi dilungo troppo su questo libro vi dico che l'ho letto perché conosco una persona che lavora per Periflorio quindi è stato ancora più interessante leggerlo veramente emozionante io di solito le saghe familiari non ho un bellissimo rapporto ma questa questa cioè i personaggi sono meravigliosi ci si affeziona a tutti anche con il passare delle generazioni il periodo storico interessantissimo l'Italia di quegli anni la Sicilia come venivano gestiti i mercati come il mondo si stava piano piano espandendo e come una piccola famiglia di portaborse come vengono chiamate riesca a diventare una tra le più importanti famiglie della Sicilia ho finito questo libro davvero con le lacrime agli occhi perché nonostante si parli di una famiglia realmente esistita e quindi se anche un racconto possiamo definirlo storico in realtà è estremamente coinvolgente quindi le storie di questi personaggi ci prendono tanto e devo dire che è davvero capace di emozionarci e di farci provare quello che stanno provando loro una lettura meravigliosa davvero davvero super consigliata e infine l'ultimo libro che vi nomino e sono andata in ordine cronologico quindi non c'è un ordine di preferenza però anche questo mi è piaciuto molto nel 2022 ed è stato Teddy un libro che abbiamo letto per la riunione di Halloween del Club del Libro ve ne ho parlato anche di questo recentemente ed è stata una lettura davvero molto bella un libro che avendo avuto tanto successo mi aspettavo fosse un po' scontato e invece non è stato così una storia molto particolare unica con dei bei colpi di scena un bel finale ma soprattutto scritto bene in una maniera tale da farci venire davvero voglia di andare avanti e scoprire qual è il mistero ecco di questa di questa storia davvero bello anche a tratti un po' terrorizzante però insomma ci sta ci sta soprattutto ad ottobre ci stava quindi se non l'avete ancora letto vi consiglio di recuperarlo bene ragazzi il video finisce qui spero di non aver parlato troppo questi erano i libri più belli che ho letto nel 2022 mi fate sapere nei commenti quali sono i vostri libri preferiti di quest'anno così mi darete qualche spunto per le letture del 2023 intanto io vi auguro un buon Natale visto che ormai manca pochissimo a voi alle vostre famiglie e a tutte le persone che amate e noi ci vediamo prestissimo con un altro video ciao ciao